Rispetto a ieri si registrano 90 nuovi casi di età compresa tra 1 e 89 anni su 2206 tamponi molecolari e 695 test antigenici con un tasso di positività pari al 3,1 per cento. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2248 di età compresa a questi 5 nuovi decessi tra 63 e 92 anni. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 55.433 dimessi guariti con un più 134 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.410, meno 50 rispetto al bollettino della precedente giornata. 569 pazienti e più 12 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 64, meno 1 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri sono le persone ricoverate in terapia intensiva mentre gli altri 9.777, meno 61, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dei casi positivi di oggi 21 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 54 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Pescara.